Raramente le cose sono come sembrano. Il trucco è vedere il quadro d'insieme, capire quali sono le forze più grandi in gioco, determinarne gli obiettivi e le motivazioni. Solo così è possibile comprendere lo schema di fondo e la vera realtà delle cose. Per esempio, bersaglio 821-16. Alto ufficiale CDP. Comandante di un'unità speciale. Amava sporcarsi le mani solo quando una carneficina era statisticamente probabile. Quando non era in campo, restava nella struttura di comando. Ben difesa, difficile da infiltrare. Intoccabile. Il mio cliente esigeva la sua eliminazione alla prima occasione utile. Ma come potevo riuscire nell'impresa? Con il dovuto rispetto, devo chiedere perché l'azione è stata autorizzata. Gamma ed Epsilon sono tranquilli da settimane. Siamo alle strette a Charlie e Delta a lottare per ogni centimetro di terreno. Spostando così le nostre forze, perderemmo zone che ci sono già costate parecchio. Signore, ho il permesso di parlare liberamente? Forse l'intelligence ha preso una cantonata. Non avevamo idea di quello che ci aspettava là fuori. Sembrava una dimostrazione di forza a fine a se stessa. Non mi piace essere mandato chissà dove a rischiare la pelle per niente. Signore, spero ne valga la pena. È stato facile convincere i miei contatti al Comitato Centrale dell'Accordo dell'importanza del mio bersaglio. Hanno organizzato un assalto diretto nei settori Gamma ed Epsilon per stanarlo con perdite accettabili. Ovvio, non sapevano nulla dell'imminente guasto ai loro sistemi dead. Ritenevo che l'improvvisa vulnerabilità delle difese dell'Accordo avrebbe reso più probabile l'ingresso in scena del mio bersaglio. Tutto procedeva a secondo i piani, quando le unità a ruine e batteri hanno attirato un battaglione CDP nella località da cui monitoravo l'operazione. Malgrado questo contrattempo, sono riuscito a ingaggiare il bersaglio appena è sbarcato dal suo trasporto, eliminandolo come richiesto. La sua stupida smorfia di stupore quando ha capito di essere già morto è stata impagabile. Tutto quel casino per beccare un ufficiale CDP. Bella genialata quella di usare altra gente come esca. Senti, sai come avrei fatto io? Avrei distrutto il loro dead e raso al suolo quella base del cazzo. Un giorno o l'altro avrai la lezione che meriti e spero tanto di esserci anch'io. È una minaccia? Quanto sei ingenuo. Non è una rissa, ma una partita a scacchi. Voi siete semplici pedoni. Impostate il gioco per consentire i pezzi migliori, cavalli, alfieri, regine e torri, di colpire con la massima precisione. Il vostro ruolo è fare di tutto per rendere la storia convincente, a costo di sacrificare centinaia di vite. Affinché io, al momento opportuno, con una sola mossa, possa salvarne migliaia. Grazie. 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 Grazie.